Abbiamo fatto un buon lavoro con la regione sui fondi europei, a differenza di Caldoro che ritardava in modo clamoroso. Questo governo regionale ha cercato di recuperare il tempo perduto, si è lavorato insieme, sulla programmazione dei fondi europei la progettazione di Napoli è stata tenuta in considerazione, anche perché noi non abbiamo restituito un euro indietro all'Unione Europea, tutto ciò che è stato dato l'abbiamo programmato, l'abbiamo speso, l'abbiamo cantierizzato, si stanno aggiudicando gare, quindi siamo credibili, questo lo sa il governo regionale, lo sa il governo nazionale e soprattutto lo sa Bruxelles che ha validato tutti i nostri progetti e quindi è un grandissimo risultato di credibilità, di efficienza e di efficacia della città di Napoli. Tutti questi fondi non faranno altro che migliorare la città, creare, muovere economia e creare occupazione vera. Ci sarà un centro storico, un ESCO veramente rinnovato? Ma stanno già partendo i lavori, alcuni sono partiti, alcuni sono ultimati, altri partiranno e altri partiranno ancora, quindi tutto quello che era stato programmato si farà fino all'ultimo metro quadro.